Il riconoscimento della pari dignità alle rispettive memorie e l'impegno a guardare avanti lavorando sempre più per un comune futuro europeo. E' il senso profondo della storica giornata di ieri a Trieste, dei capi di Stato di Italia Giorgio Napolitano, Slovenia Danilo Turk e Croazia Ivo Josipovic. La stretta di mano scambiate in prefettura, l'omaggio con la deposizione di una corona da alcuni luoghi scelti come simbolo delle tragedie del Novecento, scatenate dagli opposti nazionalismi, edificio che ospitava il naro di Lidon, la casa del popolo, e il monumento all'esodo e la partecipazione al concerto del maestro Riccardo Muti in piazza dell'Unità d'Italia sono eventi, sino a pochi anni fa, neppure immaginabili. La sottolineatura viene oggi anche dalla stampa locale italiana Esdovena, così come dai principali quotidiani nazionali dei tre paesi. Ma sul significato di questa giornata abbiamo sentito anche l'opinione di due storici che si occupano da anni delle vicende accadute lo scorso secolo al confine orientale. Ma direi fuori di ogni retorica, non è che da oggi in poi diventiamo tutti più buoni o tutti i problemi di convivenza, reciproca, fai italiani, sloveni, croati sono risolti. Però proviamo a pensare al contrario, se non ci fossimo riusciti, come pure in qualche momento sembrava possibile, quello sarebbe stato un assoluto disastro. La presenza e l'incontro dei tre presidenti è estremamente significativo per la città di Trieste e per la sua storia. Ci scrolliamo, penso, spero, dalle spalle il peso del Novecento, dobbiamo guardare il ventunesimo secolo. La gente mi pare che lo abbia capito, una parte della classe politica no. E il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, conferma, al Consiglio Comunale verrà proposto di conferire la cittadinanza onoraria al maestro Muti, che ha fermamente voluto che il concerto dell'amicizia si tenesse in questa città.